Siamo sulla terrazza al punto più alto di Saracinesco, dove è questo bel giardino comunale. Da qui inizieremo una panoramica a 360 gradi andando in direzione, qui siamo est verso sud in senso orario per mostrare la stupefacente caratteristica di Saracinesco, che è una panoramica appunto a 360 gradi su un pezzo del Lazio di Abruzzo. In questo momento inquadriamo verso sud, mezzogiorno, quindi un pochino contro sole. Quelle sono le montagne che ci separano da Roma, che appunto laggiù, dietro Tivoli. Una giornata bella ma non perfettamente limpida e quindi in questo momento non si può vedere Roma, che comunque è visibile. Adesso girando ancora andiamo lentamente verso ovest, siamo adesso, questo è il parco di Monti Lucredili con i contrafforti di Monte Gennaro e Monte Velnecchia. Qui sotto, dove c'è l'uscita dell'autostrada che in 20 minuti porta alle porte di Roma. Adesso proseguiamo il giro, vediamo appunto lì sotto Vicovaro, sotto il paese. Vicovaro e Mandela con l'autostrada che va verso l'Abruzzo. Adesso ci spiegiamo verso nord, giù è il parco Unito e verso a destra, sotto l'Abruzzo a destra. Ecco la caratteristica principale di Saracinesco, che è un minuscolo paese di poco più di cento abitanti, ma che ha questa caratteristica di essere proprio sul cucuzzo della montagna. Siamo attorno a noi, c'è un po' più tanti e ovviamente si gode anche un po' di fresco in questo momento, un po' di tramontana invernale. Ok, chiudiamo con questa bella inquadratura sull'Aroma Larga.